Si torna a scuola il 14 settembre, bisognerà garantire un metro di distanza tra gli studenti e per ora nessun obbligo riguardo le mascherine, sarà infatti il comitato scientifico ad inizio settembre a valutare le misure da adottare in base all'andamento del contagio. Queste le direttive del Ministero dell'Istruzione, mentre per quanto riguarda la manutenzione degli edifici scolastici, gli arredi, la possibilità di scaglionare entrate e uscite e il trasporto degli studenti, tutto ricadrà sugli istituti e gli enti locali. Il sindaco di Chieti e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Umberto Di Primio, parla di scarico di responsabilità. Quando si parla di scarico di responsabilità è difficile poi trovare una giustificazione. In verità qualcuno che avrebbe dovuto con chiarezza, e ce n'è stato di tempo, dire ai comuni e quindi anche alle scuole quello che si doveva fare, quello che si sarebbe dovuto fare in vista della riapertura dell'anno scolastico, l'unica cosa che è stato in grado di fare è dirci che il 14 settembre si aprono le scuole. Per il resto vi è ancora tantissima, troppa confusione, un governo balbettante che non dice mai la stessa cosa la sera detta al mattino e quindi questo oggi è il risultato. Siamo all'inizio di luglio con i comuni che dovranno fare le corse per capire come gestire le scuole, come gestire le presenze sugli scuolabos e così via discorrendo. Il sindaco ha convocato i dirigenti degli istituti scolastici del capoluogo teatino. Questo probabilmente sarà l'ultimo nodo da sciogliere per di primio nel ruolo di primo cittadino prima delle elezioni amministrative di settembre. Ci sono due misure sulle quali avere molta attenzione. La prima è quella dei 330 milioni di euro che sono stati stanziati dal governo per gli adeguamenti alle scuole italiane, quindi tutte. E qui il bando scade il 3 di luglio e quindi dovremo correre perché ci sia la possibilità di attingere a quei finanziamenti. E poi c'è invece il DL28, cioè il DL Rilancio Italia, così è stato chiamato, che prevede delle somme in favore dei comuni per quel che riguarda il comune di Chieti, 450 mila euro per 32 plessi scolastici. Però capite bene che è una inezia rispetto a quanto sarebbe per davvero necessario se volessimo fare in modo che i nostri figli, che i nostri ragazzi vadano a scuola con un distanziamento garantito di un metro e con tutte le altre accortezze che sono richieste in questo momento. Sono accortezze necessarie, sono misure indispensabili. Quindi segnalo soltanto che ancora una volta la responsabilità ricade sui sindaci, sui dirigenti scolastici, senza che però questi siano dotati delle necessarie risorse per poter fare interventi che non sono di manutenzione ordinaria, ma a volte sono di manutenzione straordinaria.